Questa è l'esperienza più bella della mia vita, a solo 25 anni di essere eletto, sono stato molto fortunato, questo lo sottolineo sempre perché il risultato che il Movimento ha ottenuto è parte dei territori ma anche parte del lavoro che hanno fatto tanti parlamentari a livello nazionale. Io mi impegnerò tantissimo, infatti per l'università sono ancora qui oggi, i ragazzi mi chiedono come mai, questo perché non bisogna mai dimenticare dove si parte, dove si viene ed è importante dare una mano agli studenti di questa università ma soprattutto alle università del sud che sono sempre dimenticate dallo Stato e poi vanno anche finanziate perché l'università privata va sia aiutata però ricordiamo che il pubblico va sempre portato avanti in maniera più forte. Io credo che la cosa fondamentale sia quella di raccogliere continuamente le istanze degli studenti come ho fatto in questi due anni da rappresentante e portarle questa volta in Parlamento perché quello che noi riusciamo a fare a livello di rappresentante degli studenti lo potremo fare in Parlamento perché le diverse normative vanno cambiate, è importante che i professori e i studenti siano un'unica comunità, in questo periodo ci hanno fatto molto dividere, ci hanno fatto fare questa lotta fra docente e studenti pensando che il nemico sia il professore e il professore pensando che il nemico sia lo studente, siamo un unico corpo di una grande comunità, dobbiamo andare tutti quanti d'accordo, in sinergia perché la cassa dirigente si forma qua.